ciao ragazzi e benvenuto nel nostro canale sportsile tv se non l'avete ne ancora fatto iscrivetevi oggi parleremo di una nuova esche in casa Illex il Grinch 135 mm x 20 grammi un'esca rigorosamente topwater quest'esca è un mix tra una rana classica da bass e uno shad corpo cavo in silicone coda silicone pieno finisce con un paddle rivolto verso l'alto questo gli permette di frullare nel vero senso della parola l'acqua in superficie infatti viene chiamata buzz in shad classici due ami coperti dal corpo molto robusti adatto per bassa e anche luci quest'esca la uso con vari recuperi il più classico è lineare quindi lancio canna bassa recupero lineare semplicissimo altro recupero che mi piace molto è lo stop and go quindi con alcune pause dopo piccoli richiami dell'esca un altro molto molto adescante per i pesci un vtd quindi in questo caso con quest'esca si riesce a fare rispetto a una classica rana da topwater anche un recupero vtd sia costante che a stop and go mi piace molto più qui ed mi piace molto mi piace molto e che il grinch funzioni l'abbiamo appena scoperto quattro lanci nel primo giorno di test per vedere come nuota ed è venuto fuori un splendido pike piccolino ma simpatico il grinch